Lezione 1. Intelligenza artificiale. Ciao Anna, hai sentito parlare degli ultimi progressi dell'intelligenza artificiale? Ciao John, sì, ho letto di come l'intelligenza artificiale stia migliorando la nostra vita in tanti modi. È affascinante! Assolutamente. Un'area in cui l'IA ha avuto un grande impatto è l'assistenza sanitaria. Aiuta i medici a diagnosticare le malattie in modo più accurato e rapido. È incredibile! Ho anche letto che l'intelligenza artificiale viene utilizzata nelle auto a guida autonoma. Sta rendendo il trasporto più sicuro ed efficiente. Sì, le auto a guida autonoma stanno diventando sempre più comuni. Usano sensori e algoritmi di intelligenza artificiale per navigare sulle strade ed evitare incidenti. È incredibile come l'IA stia trasformando vari settori. Ho sentito che viene utilizzata anche in agricoltura per ottimizzare la produzione agricola. Hai ragione! L'intelligenza artificiale può analizzare i dati sulla qualità del suolo, sui modelli meteorologici e sulla salute delle colture per aiutare gli agricoltori a prendere decisioni informate e aumentare i raccolti. Un'altra area in cui l'IA sta facendo la differenza è il servizio clienti. I chatbot e gli assistenti virtuali stanno diventando sempre più intelligenti e utili. Sicuramente! Le aziende utilizzano chatbot basati sull'intelligenza artificiale per fornire supporto immediato ai clienti, risparmiando tempo e migliorando l'esperienza utente. È impressionante come l'IA stia migliorando la nostra vita quotidiana. Ho anche sentito parlare di strumenti di traduzione linguistica basati sull'intelligenza artificiale che consentono la comunicazione globale. Sì, le barriere linguistiche vengono abbattute con l'aiuto dell'IA. Le persone possono comunicare tra loro più facilmente, indipendentemente dalle differenze linguistiche. L'intelligenza artificiale sta davvero rivoluzionando il mondo in cui viviamo. È emozionante pensare a cosa ci riserva il futuro. Assolutamente! Le possibilità sembrano infinite. L'intelligenza artificiale continuerà a svolgere un ruolo significativo nel plasmare le nostre vite in meglio. Non potrei essere più d'accordo. Per noi è importante rimanere informati e abbracciare questi progressi per sfruttare al massimo ciò che l'IA ha da offrire. Giusto! Continuiamo a esplorare e imparare come l'IA sta cambiando il mondo che ci circonda. Sicuramente! È stato bello parlare con te di questo argomento affascinante. Allo stesso modo. Mi piacciono sempre le nostre conversazioni. Abbi cura di te e a presto! Lezione 2. Consigli sui libri ed esperienze di viaggio Ciao Anna! Di recente ho finito di leggere un libro accattivante. È stata un'esperienza così coinvolgente. Ehi! Sembra interessante! Di cosa parlava il libro? Era un emozionante romanzo giallo ambientato in una piccola città. La trama era piena di colpi di scena che mi hanno tenuto incollato fino alla fine. Oh, adoro i misteri! Puoi dirmi il titolo del libro? Sono sempre alla ricerca di nuovi consigli. Certo! Il libro si chiama The Silent Witness. È scritto da un autore di bestseller noto per la sua vincente narrazione. The Silent Witness sembra intrigante. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di letture. Grazie per averlo condiviso. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti piacerà. Quindi, a proposito di libri, hai qualche consiglio per me? Assolutamente! Di recente ho letto una commovente storia di formazione intitolata L'estate delle nostre vite. È ambientato in una fascinante città di mare. Sembra una perfetta lettura estiva. Mi piacciono le storie che mi trasportano in posti diversi. Mi assicurerò di dare un'occhiata. Ottimo! Sono sicuro che lo troverai delizioso. A proposito, hai fatto qualche viaggio emozionante ultimamente? Sì, in realtà. Sono andato in gita il mese scorso e ho avuto delle esperienze memorabili. Sembra fantastico. Dove sei andato durante il tuo viaggio? Ho guidato lungo l'autostrada costiera, fermandomi in città pittoresche e godendomi le viste mozzafiato sull'oceano. Sembra un sogno. Hai avuto incontri o esperienze interessanti durante il tuo viaggio? Sì, ho incontrato alcuni affascinanti compagni di viaggio in un bar lungo la strada. Abbiamo finito per chiacchierare per ore, condividere storie e risate. Incontrare nuove persone e scambiare storie è uno dei momenti salienti del viaggio. È meraviglioso come unisce le persone. Assolutamente. È incredibile come i viaggi possano creare connessioni e aprire le nostre menti a culture e prospettive diverse. È così vero. Viaggiare amplia i nostri orizzonti e ci permette di apprezzare la bellezza e la diversità del mondo in cui viviamo. Non potrei essere più d'accordo. Sono quelle esperienze e interazioni che rendono il viaggio così arricchente e memorabile. Sicuramente. Beh, è stato bello parlarti di libri e viaggi. Ora sono ispirata a emergermi in alcune nuove storie. Allo stesso modo. Buona lettura e spero che tu abbia molte altre emozionanti avventure di viaggio in futuro. Lezione 3. Mangiare sano nei giorni più affollati. Ciao Anna. Ho notato che nei giorni di punta le persone ricorrono spesso a scelte alimentari non salutari. È comprensibile, ma ci sono delle alternative. Ehi! Hai ragione. Quando siamo impegnati, tendiamo a dare priorità alla comodità rispetto alla salute. Cosa possiamo fare per fare scelte migliori? Una mossa intelligente è pianificare e preparare i pasti in anticipo. Fa risparmiare tempo e garantisce la disponibilità di opzioni più salutari. È un'ottima idea! Avete suggerimenti per pasti veloci e nutrienti che possono essere preparati in anticipo? Assolutamente! Un'opzione è preparare una grande quantità di verdure saltate in padella con proteine magre e porzionarle in contenitori per una settimana. Sembra delizioso e conveniente. Quali altre idee per i pasti hai? Un'altra idea è preparare l'avena notturna con frutta e noci. Sono facili da preparare, ricchi di sostanze nutritive e possono essere gustati ovunque. L'avena overnight è un'ottima scelta per la colazione. Li proverò sicuramente. Che ne dite degli snack? Qualche alternativa più salutare? Invece di cercare patatine o biscotti, possiamo optare per frutta fresca, noci crude o yogurt con una spolverata di musli per uno spuntino soddisfacente. Adoro l'idea di avere snack nutrienti prontamente disponibili. Si tratta di fare scelte intelligenti che nutrano il nostro corpo. Esattamente. Prestando attenzione alle nostre scelte alimentari, anche nei giorni di punta, possiamo dare priorità alla nostra salute e al nostro benessere. Non potrei essere più d'accordo. È importante alimentare il nostro corpo con cibi sani che ci diano energia e sostengano la nostra salute generale. Assolutamente. E pianificando in anticipo, possiamo evitare la tentazione di opzioni non salutari quando abbiamo poco tempo. La pianificazione e la preparazione sono fondamentali. È un piccolo sforzo che fa molto per mantenere uno stile di vita sano. Giusto. Si tratta di prendere decisioni consapevoli e trovare un equilibrio nelle nostre vite frenetiche. Bene, grazie per questi preziosi consigli. Li incorporerò sicuramente nella mia routine. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto condividere alcune idee con te. Ricorda che piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Lezione 4. Caratteristiche uniche e personalizzazione dei prodotti Ciao Anna, hai notato come alcuni prodotti abbiano caratteristiche uniche che li distinguono dagli altri? Ehi! Sì, l'ho notato anch'io. È interessante il modo in cui le aziende si differenziano offrendo qualcosa di speciale. Assolutamente. Si tratta solo di trovare quel punto di forza unico che attiri i clienti e li induca a tornare. Questo è vero. Puoi farmi un esempio di prodotto con caratteristiche distintive? Certo. Un esempio è uno smartphone dotato di proiettore integrato. Consente di visualizzare video e presentazioni su qualsiasi superficie piana. È incredibile. Avere un proiettore integrato sarebbe molto comodo per condividere contenuti ovunque ti trovi. Esattamente. È una funzionalità straordinaria che migliora l'esperienza dell'utente e rende il prodotto più versatile. Capisco perché sarebbe attraente per le persone. Che dire della personalizzazione? Le aziende offrono anche questo? Assolutamente. Molte aziende ora offrono opzioni personalizzabili per i loro prodotti, consentendo ai clienti di personalizzare i propri acquisti. Questo è fantastico. La personalizzazione offre ai consumatori l'opportunità di avere prodotti che soddisfano le loro preferenze ed esigenze. Infatti. Ad esempio, alcuni marchi di abbigliamento offrono servizi su misura, in cui i clienti possono avere capi personalizzati in base alle loro misure esatte. È un modo fantastico per garantire una vestibilità perfetta. È bello vedere aziende che abbracciano l'individualità e soddisfano esigenze diverse. Sicuramente. Offrendo la personalizzazione, le aziende possono creare un'esperienza di acquisto più personalizzata e piacevole. Sono d'accordo, sono quei piccoli dettagli e le caratteristiche uniche che fanno risaltare un prodotto in un mercato competitivo. Assolutamente. Si tratta di creare valore e soddisfare le esigenze e i desideri specifici dei consumatori. Questa è la chiave del successo nel mercato odierno. Bene, è stato fantastico discutere con voi di questi interessanti aspetti della differenziazione dei prodotti. Allo stesso modo. È sempre un piacere avere conversazioni coinvolgenti con te. Spero di aver ispirato i nostri ascoltatori ad apprezzare l'unicità dei prodotti che incontrano. Lo spero anch'io. Continuiamo a esplorare e scoprire l'affascinante mondo dei prodotti e delle loro caratteristiche. Assolutamente. C'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da imparare. Fino alla prossima volta. Lezione 5. Esplorazione dei gusti del gelato. Ciao Anna. Quando si parla di dessert, il gelato è sempre un must. Hai qualche gusto particolare che mi consigli? Ehi! Anch'io sono un grande fan del gelato. Un gusto che consiglio vivamente è il caramello salato. È una miscela perfetta di dolce e salato. Il caramello salato sembra delizioso. Ci proverò sicuramente. Qualche altro gusto che pensi che dovrei esplorare? Assolutamente. Se sei un amante del cioccolato, non puoi sbagliare con un gelato al cioccolato fondente ricco e cremoso. Oh, sembra paradisiaco. Lo aggiungerò alla mia lista. Ci sono sapori unici che hai provato e apprezzato? Sì. Di recente ho provato il gelato al tè verde maccia ed è diventato uno dei miei preferiti. Ha un sapore distinto che è allo stesso tempo rinfrescante e terroso. Il gelato al tè verde maccia sembra intrigante. Mi assicurerò di dargli un assaggio. Ci sono altri gusti degni di nota? Sicuramente. Se sei un fan dei sapori fruttati, dovresti provare il sorbetto al mango. È leggero, rinfrescante e pieno di bontà tropicali. Il sorbetto al mango sembra la scelta perfetta per una calda giornata estiva. Lo terrò a mente. Ci sono sapori stagionali a cui prestare attenzione? Assolutamente. Durante le festività natalizie, troverai spesso aromi come menta piperita, pan di zenzero e zabaione. Aggiungono un tocco festivo alla tua esperienza con il gelato. Quei sapori stagionali sembrano deliziosi. Mi assicurerò di provarli quando arriveranno le festività natalizie. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. Spero che vi divertiate ad esplorare questi deliziosi gusti di gelato. C'è altro che vorresti sapere? A dire il vero, ho ancora una domanda. Avete mai provato a combinare gusti diversi in una sola pallina di gelato? Sì, ce l'ho. Si chiama combinazione di sapori o vortice. Alcune combinazioni popolari includono cioccolato e burro di arachidi o fragola e vaniglia. Questo è affascinante. Proverò sicuramente le combinazioni di sapori. Grazie per aver condiviso la tua esperienza nel settore dei gelati. Lezione 6. Esplorazione delle preferenze relative ai film. Ciao Anna. Ti ho sentito dire che ti piace guardare film. Sembra carino. Che genere di film ti piacciono? Ehi! Sono un grande fan dei film. Mi piacciono i generi diversi, ma amo particolarmente le commedie romantiche. Mi fanno sempre sorridere. Le commedie romantiche sono fantastiche. Mi piacciono anche i film ricchi di azione con emozionanti scene di inseguimento e intense sequenze di combattimento. Mi tengono con il bordo del sedile. Sembra eccitante. A volte ho voglia di un thriller pieno di suspense che mi faccia indovinare fino alla fine. Ti piacciono quelle? Assolutamente. I thriller pieni di suspense sono fantastici. Adoro cercare di risolvere il mistero insieme ai personaggi, e gli inaspettati colpi di scena lo rendono ancora più intrigante. Questo è vero. È sempre divertente quando un film ti fa indovinare. Un altro genere che mi piace è il fantasy. Adoro essere trasportato in mondi magici e seguire avventure epiche. Sono completamente d'accordo. I film fantasy ci permettono di sfuggire alla realtà e di immergerci in storie incantevoli. Accendono la nostra immaginazione e ci portano in viaggi straordinari. Lo fanno sicuramente. Parlando di viaggi, trovo affascinanti anche i film di viaggio. Mostrano culture diverse e destinazioni meravigliose, ispirandomi a esplorare il mondo. I film di viaggio sono meravigliosi. Offrono uno sguardo su culture diverse e accendono il desiderio di intraprendere nuove avventure. È come fare un viaggio virtuale. Esattamente. È un ottimo modo per conoscere luoghi diversi e avere una prospettiva più ampia. Hai qualche regista preferito? Sì, lo so. Christopher Nolan è uno dei miei registi preferiti. I suoi film sono visivamente sbalorditivi e stimolanti, spesso esplorano concetti strabilianti. Christopher Nolan è davvero un regista geniale. Ammiro il suo approccio narrativo unico. Un altro regista che apprezzo è Quentin Tarantino. I suoi film sono eleganti e ricchi di dialoghi memorabili. Quentin Tarantino è un maestro del suo mestiere. I suoi film sono noti per il loro stile distintivo e le narrazioni coinvolgenti. È sempre emozionante vedere cosa gli viene in mente dopo. Assolutamente. Entrambi i registi hanno dato un contributo notevole al mondo del cinema. I loro film sono sempre molto attesi. Beh, è stato bello parlare delle nostre preferenze cinematografiche. Allo stesso modo. È sempre divertente parlare di film. Abbiamo coperto una vasta gamma di generi e registi. Spero che i nostri ascoltatori scoprano nuovi film da apprezzare. Lo spero anch'io. I film hanno un modo per affascinarci ed evocare varie emozioni. Continuiamo a esplorare l'affascinante mondo del cinema nelle nostre conversazioni future. Sicuramente. C'è sempre qualcosa di nuovo ed eccitante da scoprire. Fino alla prossima volta. Lezione 7. Elementi essenziali per la spesa. Ciao Anna. Ho bisogno di fare scorta di frutta, verdura e alcuni articoli della dispensa. Hai qualche consiglio? Ehi! Quando si tratta di frutta, suggerisco di procurarsi un mix di mele, banane e arance. Sono versatili e ricchi di sostanze nutritive. È un'ottima idea. Le mele, le banane e le arance sono sicuramente alimenti base. Che mi dici delle verdure? Quali devo includere nella mia lista della spesa? Per le verdure, consiglio di procurarti verdure a foglia verde come spinaci o cavoli, poiché sono ricche di vitamine. Potresti anche prendere in considerazione carote e peperoni per aggiungere colore e croccantezza. Verdure a foglia verde, carote e peperoni sembrano una combinazione nutriente. Mi assicurerò di aggiungerli alla mia lista. Qualche articolo della dispensa che non dovrei trascurare? Assolutamente. È sempre bene avere a portata di mano alcuni oggetti essenziali per la dispensa. Suggerisco di fare scorta di riso, pasta, fagioli in scatola e olio d'oliva. Sono versatili e possono essere utilizzati in una varietà di piatti. Riso, pasta, fagioli in scatola e olio d'oliva sono sicuramente dei must. Forniscono una solida base per molti pasti. Ci sono altri articoli per la dispensa che mi consigliate? Sì, le spezie e le erbe aromatiche sono essenziali per aggiungere sapore ai tuoi piatti. Prendi in considerazione prodotti di base come sale, pepe, aglio in polvere ed erbe essiccate come origano e basilico. Le spezie e le erbe aromatiche possono davvero elevare il gusto di un piatto. Mi assicurerò di rifornire le mie scorte. Ci sono frutta o verdura specifiche di stagione in questo momento? La frutta e la verdura di stagione sono sempre un'ottima scelta. Attualmente fragole, angurie e pomodori sono di stagione. Di solito sono più freschi e saporiti durante questo periodo. Fragole, angurie e pomodori sembrano deliziosi. Li prenderò sicuramente. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. C'è altro per cui hai bisogno di assistenza? A dire il vero, ho ancora una domanda. Ci sono mercati agricoli locali o negozi biologici che consigli per acquistare prodotti freschi? Sì, ci sono alcune opzioni che posso suggerire. C'è un mercato agricolo su Main Street che offre un'ampia selezione di frutta e verdura coltivate localmente. C'è anche un negozio biologico chiamato Greenleaf specializzato in prodotti biologici. Il mercato degli agricoltori di Main Street e il negozio biologico Greenleaf sembrano entrambi ottime scelte. Li controllerò. Grazie per l'informazione. Siete i benvenuti. Spero che trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Goditi la spesa e la cucina. Lo farò. Grazie ancora per l'aiuto. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 8. Pianificare una vacanza in spiaggia. Ciao Anna. Stavo pensando di andare in vacanza. Stavo pensando di andare in spiaggia. Cosa ne pensi? Ehi! È un'ottima idea. Potremmo passare qualche giorno sdraiati sulla spiaggia e poi andare ad esplorare le attrazioni vicine. Sarebbe una combinazione perfetta di relax e avventura. Non potrei essere più d'accordo. Rilassarsi sulla spiaggia sembra rigenerante ed esplorare l'area circostante aggiungerebbe un po' di emozione al viaggio. Hai in mente qualche destinazione balneare specifica? Ci sono così tante belle spiagge tra cui scegliere. Un'opzione potrebbero essere le meravigliose spiagge della costa mediterranea. Le acque cristalline e le coste sabbiose sono semplicemente mozzafiato. La costa mediterranea sembra incredibile. È noto per le sue spiagge pittoresche e le vivaci città costiere. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Quali attività possiamo fare oltre a rilassarci sulla spiaggia? Lungo la costa sono spesso disponibili sport acquatici, come snorkeling, jetski e paddleboard. Potremmo anche fare un giro in barca per vedere calette nascoste e goderci la vita marina. Gli sport acquatici e le gite in barca sembrano molto divertenti. Sarebbe un ottimo modo per sfruttare al meglio le nostre vacanze al mare e creare ricordi duraturi. Ci sono attrazioni nelle vicinanze da non perdere? Assolutamente. Se siamo vicini alla costa, dovremmo visitare incantevoli città di mare e assaggiare la cucina locale. Esplorare i monumenti storici e vivere la vivace cultura sono anche attività imperdibili. Esplorare le città di mare, provare la cucina locale e immergerci nella cultura renderebbe il viaggio ancora più arricchente. Sono entusiasta delle possibilità. Per quanti giorni pensi che dovremmo pianificare? Penso che una settimana sarebbe una buona durata. In questo modo, abbiamo abbastanza tempo per rilassarci sulla spiaggia, dedicarci ad attività ed esplorare le attrazioni vicine senza sentirci affrettati. Una settimana sembra perfetta. Ci permette di goderci appieno la spiaggia e di sfruttare al meglio la nostra vacanza. Non vedo l'ora di rilassarmi e trascorrere del tempo di qualità lontano dalla routine quotidiana. Sarà davvero una meritata pausa. Non vedo l'ora di prendere il sole e godarmi la serena atmosfera della spiaggia. Hai qualche preferenza per l'alloggio? Penso che sarebbe bello soggiornare in un resort sulla spiaggia o in un'accogliente casa sulla spiaggia. La vicinanza alla spiaggia migliorerebbe l'esperienza complessiva e la renderebbe più conveniente per noi. Sono d'accordo un resort sulla spiaggia o una casa sulla spiaggia fornirebbero un facile accesso alla spiaggia e viste mozzafiato. Sarebbe l'ambiente perfetto per una vacanza rilassante. Assolutamente. Inizierò a cercare gli alloggi e a verificare la disponibilità. Una volta finalizzati i dettagli, possiamo pianificare il resto del nostro itinerario. Grazie per il tuo contributo. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Sono sicuro che ci divertiremo moltissimo in spiaggia. Fatemi sapere se avete bisogno di assistenza per la pianificazione. Apprezzo il tuo supporto. Ti contatterò sicuramente se avrò qualche domanda. Ti auguro una fantastica vacanza al mare. Lezione 9. Chiedere scusa per un errore. Ciao Anna, hai visto il nuovo hotel fronte mare? Ha una bella vista sulla spiaggia. Penso che sia senza dubbio colpa nostra. La prego di accettare le mie scuse. Ehi, sì, ho notato l'hotel. La vista è davvero mozzafiato. E non preoccuparti. Gli errori accadono ed è importante da parte tua scusarti. Accetto le tue scuse. Grazie per la comprensione. Mi dispiace che le nostre azioni possano aver causato qualche inconveniente. Mi scuso sinceramente per gli eventuali problemi che possiamo aver causato. È gentile da parte tua dirlo. Scuse riconosciute. Tutti commettiamo degli errori e ciò che conta è assumersi la responsabilità e fare ammenda. Apprezzo la tua sincerità. Sono felice che tu la veda così. Assumersi la responsabilità è importante per me e voglio sistemare le cose. Posso fare qualcosa per correggere la situazione? La tua disponibilità a fare ammenda è incomiabile. Forse possiamo offrire un gesto di buona volontà, come offrire alle persone colpite una buona cena o offrire uno sconto sulla loro prossima visita. È un'ottima idea. Offrire una cena o uno sconto sarebbe un modo premuroso per dimostrare la nostra sincerità e rimediare all'inconveniente causato. Prenderò accordi per questo. Sono sicuro che le persone colpite apprezzeranno il gesto. È importante riconoscere i nostri errori e adottare misure per migliorare le cose. Grazie per aver preso l'iniziativa. Siete i benvenuti. Credo nell'affrontare i problemi in modo proattivo e nel trovare modi per migliorare. Sono grato per la comprensione e il supporto durante questo processo. È un piacere per me. Tutti commettiamo degli errori ed è il modo in cui li gestiamo che conta davvero. Sono sicuro che impareremo da questa esperienza e cresceremo come individui. Sono completamente d'accordo. Imparare dai nostri errori è fondamentale e ci aiuta a diventare versioni migliori di noi stessi. Ancora una volta, apprezzo la tua comprensione e il tuo perdono. Siete i benvenuti. Il perdono è un atto potente e ci permette di andare avanti in modo positivo. Concentriamoci sul fare le cose per bene e creare un'esperienza migliore per tutti. Assolutamente. Insieme, possiamo lavorare per creare un'esperienza positiva e memorabile. Grazie per il supporto e l'incoraggiamento. Significa molto per me. È un piacere per me. Siamo una squadra e sono qui per supportarti. Prendiamo le disposizioni necessarie e assicuriamo che tutte le persone coinvolte si sentano valorizzate e apprezzate. Non potrei essere più d'accordo. Con il tuo aiuto e la tua guida, sono sicuro che saremo in grado di risolvere questa situazione nel miglior modo possibile. Grazie ancora. Lezione 10 Viaggiare per lavoro Ciao Anna, viaggi spesso? Ehi! Sì, viaggio per lavoro abbastanza spesso. È una parte essenziale del mio lavoro. Che ne dici di te? Viaggiate spesso? Sì, viaggio occasionalmente anche per lavoro. È sempre interessante visitare luoghi diversi e conoscere nuove culture durante i viaggi d'affari. Assolutamente. I viaggi d'affari offrono un'opportunità unica per esplorare nuove città ed espandere i nostri orizzonti. Quali destinazioni hai visitato di recente? Recentemente, ho avuto la possibilità di visitare Tokyo, in Giappone, per una conferenza. La città era vivace e piena di luoghi affascinanti. Sei già stato a Tokyo? Sì, sono stato a Tokyo alcune volte. È una metropoli vivace con una miscela perfetta di tradizione e modernità. Hai avuto del tempo libero per esplorare la città durante il tuo viaggio? Sfortunatamente, i miei orari erano piuttosto stretti, quindi non avevo molto tempo libero. Ma sono riuscito a visitare alcuni monumenti famosi, come il Tokyo Ski 3 e il Santuario Meiji. È fantastico! Anche con un tempo limitato, è fantastico poter provare alcune delle attrazioni iconiche di Tokyo. Hai avuto la possibilità di provare qualche tipo di cucina locale? Sì, mi sono assicurato di concedermi del delizioso sushi e ramen. I sapori erano incredibili ed è stata di per sé un'avventura culinaria. Che mi dici di te? Qualche esperienza culinaria memorabile durante i tuoi viaggi di lavoro? Assolutamente! Una delle mie esperienze culinarie più memorabili è stata provare l'autentica paella a Valencia, in Spagna. Era pieno di sapori e davvero una delizia gastronomica. Sembra incredibile. La Spagna è nota per le sue ricche tradizioni culinarie e provare la paella a Valencia deve essere stata un'esperienza fantastica. Ci sono altre destinazioni nella tua prossima lista di viaggi? Sì, andrò a Londra il mese prossimo per una serie di incontri. Sono entusiasta di esplorare i monumenti iconici della città, come il Big Ben e la Torre di Londra, durante il mio tempo libero. Londra è una città vivace con tanta storia e fascino. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare i famosi monumenti e ad immergerti nell'atmosfera unica della città. Grazie, non vedo l'ora. Viaggiare per lavoro mi permette di imparare e crescere sia professionalmente che personalmente. È un'esperienza preziosa. Non potrei essere più d'accordo. I viaggi d'affari offrono la possibilità di ampliare le nostre conoscenze, creare connessioni e acquisire una prospettiva più ampia. È una parte arricchente dei nostri percorsi professionali. Esattamente. Si tratta solo di cogliere nuove opportunità e sfruttare al meglio ogni viaggio. Ti auguro viaggi sicuri e piacevoli in futuro. Grazie allo stesso modo, spero che i tuoi prossimi viaggi siano produttivi e ricchi di esperienze memorabili. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Lezione 11. Indicazioni di navigazione Ciao Anna. Mentre cammini, prosegui dritto finché non vedi un grande parco alla tua destra. Poi, gira a destra lì. Ciao. Capito. Quindi, dovrei continuare a camminare in linea retta finché non vedo il parco alla mia destra, e poi girare a destra. È corretto? Giusto. Il parco fungerà da punto di riferimento, indicando che sei sulla strada giusta. Dovrebbe essere facile da individuare grazie alle sue dimensioni. Perfetto. Grazie per le chiare indicazioni. Ti ringrazio per il tuo aiuto. C'è altro che dovrai tenere a mente mentre seguo questo percorso? Siete i benvenuti. Lungo la strada, potresti anche imbatterti in alcuni negozi e caffè. Sentiti libero di esplorarli se hai del tempo extra. Sembra una bella aggiunta al viaggio. Terrò d'occhio eventuali negozi o caffè interessanti che attirino la mia attenzione. Grazie per averlo detto. Nessun problema esplorare gli stabilimenti locali può aggiungere un tocco di avventura alla tua passeggiata. È sempre divertente scoprire posti nuovi. Assolutamente. Sono pienamente d'accordo. Sono queste scoperte inaspettate che spesso rendono le esperienze di viaggio memorabili. Sono entusiasta di vedere cosa trovo. Sono lieto che tu stia abbracciando lo spirito dell'esplorazione. Ricorda che se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Grazie per la tua disponibilità ad aiutare. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di assistenza lungo la strada. Avere qualcuno a cui rivolgersi per chiedere aiuto è rassicurante. Siete i benvenuti. Sono qui per supportarti. Esplorare nuovi ambienti a volte può essere difficile, ma con un po' di guida diventa più facile. Lo apprezzo davvero. Avere qualcuno che conosce la zona è una risorsa preziosa. Rende il viaggio meno scoraggiante e più piacevole. Sono lieto di poter essere d'aiuto. Ricorda, una volta svolta a destra al parco, la tua destinazione dovrebbe essere a portata di mano. Ho capito. Una volta svolta a destra, sarò vicino alla mia destinazione. Terrò d'occhio eventuali punti di riferimento o segnaletica aggiuntivi lungo il percorso. Questo è un buon approccio. Tenere d'occhio i punti di riferimento e la segnaletica ti aiuterà a essere sulla strada giusta. Fidati anche del tuo istinto. Grazie per il promemoria. Fidarmi del mio istinto è qualcosa che terrò a mente. A volte, il nostro intuito può guidarci nella giusta direzione. Assolutamente. L'intuizione gioca un ruolo significativo nella navigazione in luoghi sconosciuti. È uno strumento prezioso su cui fare affidamento in caso di dubbi. Non potrei essere più d'accordo. La nostra intuizione spesso ci porta sulla strada giusta. Lo accetterò e mi godrò il viaggio. Grazie per la tua guida. Siete i benvenuti. Goditi la passeggiata, abbraccia l'avventura e divertiti esplorando la zona. Viaggi sicuri. Lezione 12. Rivolgersi al pubblico giusto. Ciao Anna. Stavo pensando alla nostra strategia di marketing. Come possiamo indirizzare efficacemente questo segmento? Ehi! Questa è un'ottima domanda. Per indirizzare efficacemente questo segmento, dobbiamo comprendere le loro esigenze e preferenze. Abbiamo condotto ricerche di mercato? Sì, abbiamo condotto ricerche di mercato approfondite per raccogliere informazioni sul nostro pubblico di destinazione. Disponiamo di dati preziosi sui loro dati demografici, sugli interessi e sul comportamento di acquisto. Questo è fantastico. Con questi dati, possiamo creare Buyer Personas per comprendere meglio il nostro pubblico di destinazione a livello personale. Ci aiuta a personalizzare i nostri messaggi e le nostre offerte in base alle loro esigenze specifiche. Assolutamente. Le Buyer Personas ci consentono di creare campagne di marketing mirate che risuonano tra il nostro pubblico. Garantisce che i nostri messaggi raggiungano le persone giuste. Sono completamente d'accordo. È fondamentale inviare i messaggi giusti alle persone giuste al momento giusto. Ciò aumenta le possibilità di catturare la loro attenzione e stimolare il coinvolgimento. Esattamente. Comprendendo il nostro pubblico di riferimento, possiamo identificare i canali più efficaci per raggiungerlo. Siamo in grado di ottimizzare i nostri sforzi di marketing e allocare le risorse con saggezza. Questo è perfetto. È importante scegliere i canali giusti per comunicare con il nostro pubblico. Che si tratti di social media, email marketing o altre piattaforme, dobbiamo essere dove sono. Precisamente. La presenza sui canali frequentati dal nostro pubblico di riferimento garantisce la massima visibilità e coinvolgimento. Ci consente di connetterci con loro in modo efficace. Oltre a scegliere i canali giusti, dovremmo anche creare messaggi convincenti e persuasivi. Dobbiamo evidenziare i vantaggi e il valore che i nostri prodotti o servizi apportano alle loro vite. Assolutamente. Una messaggistica efficace è fondamentale per catturare l'attenzione e l'interesse del nostro pubblico di destinazione. Dovrebbe comunicare chiaramente in che modo le nostre offerte possono risolvere i loro problemi o soddisfare i loro desideri. Non potrei essere più d'accordo. La nostra messaggistica dovrebbe essere incentrata sul cliente, concentrandosi sulla risoluzione dei suoi punti deboli e sulla fornitura di soluzioni. Si tratta di mostrare loro il valore che possiamo offrire. Ben detto. Un altro aspetto importante è analizzare e misurare continuamente i nostri sforzi di marketing. Questo ci aiuta a capire cosa funziona e cosa deve essere migliorato. Sicuramente. L'analisi regolare delle nostre campagne di marketing ci consente di ottimizzare le nostre strategie sulla base di approfondimenti basati sui dati. Ci aiuta a rimanere agili e ad adattarci alle mutevoli esigenze del nostro pubblico di riferimento. Assolutamente. Il panorama del marketing è in continua evoluzione, quindi è essenziale rimanere aggiornati e agili nel nostro approccio. In questo modo, possiamo fornire costantemente valore al nostro segmento target. Sono completamente d'accordo. Il nostro obiettivo è costruire solide connessioni con il nostro pubblico di riferimento e affermarci come una scelta affidabile e preferita. È un processo continuo che richiede uno sforzo continuo. Hai assolutamente ragione. Costruire e coltivare relazioni con il nostro pubblico di riferimento è fondamentale per il successo a lungo termine. Si tratta di creare una base clienti fedele che creda nel nostro marchio. Esattamente. Quando indirizziamo efficacemente il nostro segmento, possiamo attirare i clienti giusti, fidelizzare il marchio e promuovere la crescita del business. È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Ben detto. Grazie per le tue preziose informazioni. Utilizziamo queste conoscenze per affinare la nostra strategia di marketing e avere un impatto positivo sul nostro segmento target. Siete i benvenuti. Sono entusiasta di vedere i risultati positivi che possiamo ottenere rivolgendoci efficacemente al nostro pubblico. Agiamo e facciamo in modo che accada. Assolutamente. Andiamo là fuori e facciamo la differenza. Insieme possiamo raggiungere nuove vite e raggiungere i nostri obiettivi. Cominciamo. Concordato. Sono pronto ad avere un impatto. Facciamo del nostro meglio e facciamo in modo che il nostro segmento target se ne accorga. Ecco il nostro successo. Complimenti per quello. Alla ricerca del successo e del raggiungimento di nuove vite. Facciamo in modo che accada. Lezione 13. Rimanere positivi. Ciao Anna. Rimanere positiva a volte può essere una sfida. Come riesci a rimanere ottimista? Ehi! È vero, rimanere positivi può essere difficile, ma faccio del mio meglio. Una cosa che mi aiuta è concentrarmi sulla gratitudine. Contare le mie benedizioni mi ricorda le cose belle della vita. Questo è un ottimo approccio. La gratitudine è uno strumento potente. Sposta la nostra attenzione dagli aspetti negativi a quelli positivi e ci aiuta ad apprezzare ciò che abbiamo. Assolutamente. Un'altra strategia che uso è circondarmi di persone positive. La loro energia e il loro ottimismo si riversano su di me e mi risollevano il morale. Sono d'accordo le persone di cui ci circondiamo possono influenzare notevolmente la nostra mentalità. Un'azienda positiva può fornire supporto e incoraggiamento nei momenti difficili. Sicuramente. È importante creare un ambiente positivo per noi stessi. Impegnarsi in attività che portano gioia e appagamento gioca anche un ruolo significativo nel rimanere positivi. Non potrei essere più d'accordo. Fare cose che amiamo e ci piacciono può migliorare il nostro umore e il benessere generale. Si tratta di trovare attività che ci portino felicità e incorporarle nella nostra routine. Assolutamente. È importante dare priorità anche alla cura di sé. Prendersi cura della nostra salute fisica e mentale contribuisce alla nostra positività e resilienza complessive. Hai assolutamente ragione. La cura di sé è fondamentale. Potrebbe essere semplice come dormire a sufficienza, mangiare cibi nutrienti o praticare tecniche di rilassamento come la meditazione o l'esercizio fisico. Questo è vero. Questo è un approccio eccellente. Cambiare prospettiva e cercare il lato positivo può aiutarci a vedere il quadro generale e a trovare positività anche in circostanze difficili. Assolutamente. E non dimentichiamo il potere delle risate. Circondarci di umorismo e trovare gioia nei momenti quotidiani può migliorare istantaneamente il nostro umore. Non potrei essere più d'accordo. Le risate sono contagiose e hanno un modo per alleggerire l'umore. È uno strumento meraviglioso per rimanere positivi e diffondere positività anche agli altri. Hai assolutamente ragione. Infine, è importante donarci grazia e praticare l'autocompassione. Abbiamo tutti delle brutte giornate, e va bene riconoscere le nostre emozioni e prendersi del tempo per ricaricarsi. Questo è molto vero. Essere gentili con noi stessi e praticare l'autocompassione ci consente di riprenderci dagli ostacoli e mantenere una mentalità positiva a lungo termine. Assolutamente. Si tratta solo di trovare strategie che funzionino per noi individualmente e di impegnarsi a rispettarle. Rimanere positivi è un viaggio e possiamo sostenerci a vicenda lungo il percorso. Sono completamente d'accordo. Sostenersi a vicenda per rimanere positivi è essenziale. Insieme, possiamo superare tutte le sfide che ci si presentano e abbracciare una vita più positiva e appagante. Ben detto. Continuiamo a sostenerci e a rafforzarci a vicenda nella nostra ricerca della positività. In questo modo, possiamo creare un mondo più luminoso e felice per noi stessi e per chi ci circonda. Non potrei essere più d'accordo. Diffondiamo positività ovunque andiamo e ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Insieme possiamo fare la differenza. Assolutamente. Andiamo là fuori e facciamo un impatto positivo. Ecco come rimanere positivi e abbracciare una vita piena di gioia e ottimismo. Lezione 14. Fitness e riscaldamento Ciao Anna. Correre sul tapis roulant sembra un buon riscaldamento. Fai degli esercizi di riscaldamento specifici prima degli allenamenti? Eh, sì, gli esercizi di riscaldamento sono essenziali prima di qualsiasi allenamento. Di solito inizio con allungamenti dinamici per riscaldare i muscoli e aumentare la frequenza cardiaca. È un ottimo modo per preparare il tuo corpo. Gli allungamenti dinamici aiutano a migliorare la flessibilità e la mobilità attivando i muscoli che utilizzerai durante l'allenamento. Assolutamente. È importante aumentare gradualmente l'intensità del riscaldamento per far fluire il sangue e preparare il corpo all'esercizio imminente. Sono d'accordo, si tratta di aumentare gradualmente la frequenza cardiaca e riscaldare i muscoli per prevenire lesioni e ottenere prestazioni migliori durante l'allenamento. Sicuramente. Oltre agli allungamenti dinamici, incorporo anche alcuni esercizi cardioleggeri nella mia routine di riscaldamento. Potrebbe essere fare jogging sul posto o saltare i jack per aumentare la frequenza cardiaca. È un'ottima idea. Gli esercizi cardioleggeri sono eccellenti per aumentare il flusso sanguigno e aumentare la frequenza cardiaca. Aiuta a preparare il sistema cardiovascolare per l'allenamento successivo. Assolutamente. Un altro aspetto importante del riscaldamento è l'attivazione dei muscoli specifici su cui prenderai di mira durante l'allenamento. Mi piace includere alcuni esercizi a corpo libero per coinvolgere quei muscoli. Questo è un approccio intelligente. Incorporando esercizi a corpo libero, non solo attivi i muscoli, ma rafforzi anche la connessione mente-muscolo, il che può migliorare le prestazioni. Precisamente. La connessione mente-muscolo è fondamentale per massimizzare l'efficacia di ogni esercizio. Gli esercizi di riscaldamento offrono l'opportunità di stabilire precocemente tale connessione. Non potrei essere più d'accordo. È importante prestare attenzione e attenzione ai movimenti durante il riscaldamento per ottimizzare le prestazioni e ridurre il rischio di lesioni. Assolutamente. E non dimentichiamo i benefici del riscaldamento anche per la nostra preparazione mentale. Ci aiuta a passare mentalmente all'allenamento e a concentrarci sul compito da svolgere. Hai assolutamente ragione. Gli esercizi di riscaldamento non solo preparano il corpo, ma ci mettono anche nella giusta mentalità per un allenamento produttivo. Dà il tono per una sessione di allenamento di successo. Questo è molto vero. Una routine di riscaldamento completa può fare una differenza significativa nella nostra esperienza complessiva di allenamento. È un piccolo investimento di tempo che produce grandi risultati. Sono d'accordo vale la pena dedicare qualche minuto al riscaldamento prima di ogni allenamento. Ci aiuta a ottenere prestazioni migliori, a ridurre il rischio di infortuni e a ottenere il massimo dalle nostre sessioni di allenamento. Sicuramente. Quindi, la prossima volta che vai in palestra o inizi un allenamento, non saltare il riscaldamento. È una parte essenziale della tua routine di fitness che può fare una grande differenza nelle prestazioni complessive. Hai assolutamente ragione. Mi assicurerò di inserire un adeguato riscaldamento nella mia routine di fitness. Si tratta solo di prenderci cura del nostro corpo e prepararci al successo. Questo è lo spirito. Il tuo corpo ti ringrazierà per questo. Quindi, ricordiamoci di riscaldarci prima di ogni allenamento e di sfruttare al massimo i nostri percorsi di fitness. Non potrei essere più d'accordo. Dobbiamo rimanere senza infortuni, dare il meglio di noi e raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Facciamo in modo che accada. Lezione 15. Pianificazione del viaggio Ciao Anna. Sto cercando destinazioni per il mio prossimo viaggio. Voglio assicurarmi che sia una buona scelta. Qualche consiglio per la pianificazione del viaggio? Ehi! È una mossa intelligente fare qualche ricerca prima di decidere una destinazione. Hai mai considerato l'opzione di viaggiare fuori stagione? Sì, ho sentito che viaggiare fuori stagione può avere i suoi vantaggi. Quali sono alcuni vantaggi della scelta di quell'orario? I viaggi fuori stagione spesso significano meno folla, prezzi più bassi e maggiore disponibilità. Può essere un ottimo modo per esplorare destinazioni popolari senza la tipica corsa turistica. Sembra allettante. Lo terrò sicuramente a mente. Che mi dici dell'alloggio? Qualche suggerimento per trovare le migliori offerte? Assolutamente. Quando si tratta di alloggi, è una buona idea confrontare i prezzi su diverse piattaforme e prendere in considerazione la possibilità di prenotare direttamente con l'hotelo la pensione per potenziali sconti. Questo è un consiglio utile. Mi assicurerò di esplorare diverse opzioni e di verificare eventuali sconti per prenotazioni dirette. Che mi dici del trasporto? Qualche consiglio? Per il trasporto, vale la pena controllare diverse compagnie aeree, confrontare i prezzi ed essere flessibili con le date di viaggio. A volte, volare in determinati giorni può comportare tariffe più basse. Questo è un ottimo punto. La flessibilità può aprire maggiori possibilità di trovare voli convenienti. Terrò d'occhio queste opportunità. Cos'altro devo prendere in considerazione? Un altro aspetto da considerare è la creazione di un itinerario approssimativo. Cerca le attrazioni imperdibili, ma lascia anche spazio alla spontaneità ed esplora luoghi fuori dai sentieri battuti. È un buon equilibrio. Avere un itinerario libero mi aiuta a non perdere i punti salienti, consentendomi comunque scoperte inaspettate. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra pianificazione e flessibilità. In questo modo, puoi sfruttare al meglio il tuo viaggio e creare esperienze memorabili. Sono completamente d'accordo. È importante avere un piano, ma anche lasciare spazio ad avventure inaspettate. Questo è ciò che rende il viaggio così emozionante. Qualche altro consiglio per la pianificazione del viaggio? Un altro consiglio è quello di ricercare le usanze locali e l'etichetta della destinazione che visiterai. Mostrare rispetto per la cultura locale può migliorare la tua esperienza di viaggio. È un suggerimento prezioso. Conoscere le usanze locali può aiutarci a entrare in contatto con la comunità locale ed evitare malintesi involontari. Ne prenderò nota. Ottimo! Essere culturalmente sensibili è essenziale. Così facendo, vivrai un'esperienza di viaggio più coinvolgente e rispettosa. Goditi il viaggio! Grazie! Apprezzo tutti i tuoi utili consigli. Ne farò buon uso e mi assicurerò di vivere un'esperienza di viaggio straordinaria. Buon viaggio anche a te! Siete i benvenuti! Sono lieto di essere stato d'aiuto. Ti auguro un viaggio fantastico e non vedo l'ora di sentire tutte le tue avventure al tuo ritorno. Buon voyage! Grazie! Condividerò sicuramente con te i miei racconti di viaggio. Fino ad allora, abbi cura di te e a presto! Lezione 16. Scelte alimentari sane Ciao Anna! Ho appena finito il mio allenamento. Mi sento perfetto adesso. Andiamo a prendere delle verdure al supermercato. Di cosa abbiamo bisogno? Ciao John! È un'ottima idea! Le verdure sono una parte essenziale di una dieta sana. Dovremmo procurarci delle verdure a foglia verde come spinaci e cavoli. Sicuramente! Le verdure a foglia verde sono ricche di sostanze nutritive. Prendiamo anche alcune verdure colorate come peperoni, carote e pomodori per variare. Ottime scelte! Le verdure colorate forniscono una gamma di vitamine e antiossidanti. Dovremmo anche prendere in considerazione l'idea di procurarci delle verdure crocifere come broccoli e cavolfiori. È una mossa intelligente. Le verdure crocifere hanno numerosi benefici per la salute. Che ne dici di aggiungere zucchine e melanzane al nostro carrello? Scelte eccellenti! Le zucchine e le melanzane sono versatili e possono essere utilizzate in vari piatti. Prendiamo anche delle cipolle e dell'aglio per insaporire i nostri pasti. Ottima idea! Cipolle e aglio aggiungono profondità e gusto ai nostri piatti. Dovremmo procurarci anche degli ortaggi a radice come patate e patate dolci? Sicuramente! Gli ortaggi a radice sono nutrienti e possono essere utilizzati in diverse ricette. Assicuriamoci di includerli nella nostra lista della spesa. Suona bene che ne dite delle erbe fresche? Penso che aggiungere basilico, coriandolo e prezzemolo sarebbe un bel tocco per esaltare i sapori. Sono assolutamente d'accordo! Le erbe fresche possono esaltare il gusto dei nostri piatti. Non dimentichiamoci di prenderne un sacco dal negozio. Perfetto! La nostra lista della spesa per le verdure sta andando bene. È fantastico avere una varietà di verdure per creare pasti deliziosi e salutari. Assolutamente! Mangiare una vasta gamma di verdure ci assicura un ampio spettro di nutrienti. È un aspetto chiave per mantenere una dieta equilibrata. Non potrei essere più d'accordo. La varietà è il sale della vita e si applica anche alle nostre scelte alimentari. Andiamo al supermercato e riempiamo il nostro carrello con queste prelibatezze nutrienti. Sembra un piano. Andiamo ora e assicuriamoci di avere una selezione di verdure colorate e ricche di nutrienti da gustare. Si tratta di nutrire il nostro corpo e adottare uno stile di vita sano. Assolutamente! Facciamo in modo che un'alimentazione sana sia una priorità e assaporiamo i benefici che ne derivano. Sono entusiasta di preparare dei pasti deliziosi e nutrienti con tutte queste verdure. Anch'io! Sarà un'avventura culinaria. Andiamo e andiamo a fare la spesa. È ora di riempire il nostro carrello con la bontà della natura. Sono con te. Andiamo e intraprendiamo il nostro viaggio pieno di verdure. Non vedo l'ora di vedere quali deliziosi piatti creeremo. Andiamo! Lezione 17. Strategia antistress Ciao Anna, mi sento un po' stressata ultimamente. Questa è una buona strategia per gestire lo stress. Trovo che l'esercizio fisico mi aiuti a ridurre lo stress. Che mi dici di te? Ehi! L'esercizio fisico è davvero un fantastico antistress. Aumenta le endorfine e mi aiuta a rilassarmi. Oltre all'esercizio fisico, mi piace anche praticare la consapevolezza e la meditazione. Questo è fantastico. La consapevolezza e la meditazione sono ottimi modi per calmare la mente e trovare la pace interiore. Puoi condividere alcuni suggerimenti su come iniziare con la consapevolezza? Assolutamente. Per iniziare con la consapevolezza, trova uno spazio tranquillo, Concentrati sul respiro e osserva i tuoi pensieri senza giudizio. Richiede pratica, ma può portare un senso di chiarezza e rilassamento. Sembra semplice. Ci proverò. Oltre all'esercizio fisico e alla consapevolezza, ci sono altre tecniche per alleviare lo stress che trovi utili? Sicuramente. Un'altra tecnica che trovo utile è dedicarmi agli hobby o alle attività che mi danno gioia e mi aiutano a rilassarmi. Ad esempio, amo dipingere e suonare la chitarra. È fantastico. Impegnarsi in attività che ci piacciono può essere un ottimo modo per distrarci dallo stress e trovare un senso di appagamento. Mi assicurerò di incorporare più hobby nella mia routine. È un'idea meravigliosa. Trovare il tempo per attività che ti danno gioia è essenziale. Si tratta solo di trovare un equilibrio e coltivare il proprio benessere generale. Assolutamente. L'equilibrio è fondamentale. Fare delle pause e trascorrere del tempo con i propri cari è importante anche per ridurre lo stress. Come ti rilassi e ti connetti con gli altri? Sono completamente d'accordo. Trascorrere del tempo di qualità con i propri cari è un ottimo modo per rilassarsi. Mi piace avere conversazioni significative, fare passeggiate insieme o semplicemente condividere un pasto. Sembra adorabile. Connessioni significative e tempo di qualità con i propri cari possono fornire un senso di sostegno e relax. Mi assicurerò di dare la priorità a quei momenti. Meraviglioso. È importante circondarsi di relazioni positive e coltivare tali connessioni. Possono essere una fonte di forza nei periodi di stress. Non potrei essere più d'accordo. Le relazioni positive sono come una rete di sicurezza, che forniscono conforto e sostegno. Grazie per aver condiviso queste strategie per alleviare lo stress. Li incorporerò nella mia vita quotidiana. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda, si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te e creare una routine personalizzata per la gestione dello stress. Prenditi cura di te. Grazie lo terrò sicuramente a mente. Prendersi cura di noi stessi è essenziale per il benessere generale. Apprezzo il tuo consiglio. State bene e senza stress. Siete i benvenuti. Sono lieto di essere stato d'aiuto. Abbi cura anche di te e ricordati di dare priorità alla cura di te stesso. Ti auguro un viaggio sereno e senza stress. Grazie farò del mio meglio. Facciamo un futuro senza stress per entrambi. Saluti. Saluti. Che possiamo trovare equilibrio, pace interiore e resilienza di fronte allo stress. Abbi cura di te e stai bene. Assolutamente. Complimenti per quello. Abbi cura di te e stai bene anche tu. Fino alla prossima volta. Salve Anna, ho una domanda sull'hotel. Al secondo piano, la colazione è inclusa nella camera? Ehi, sì, la colazione è infatti inclusa nella camera al secondo piano. È un grande vantaggio per gli ospiti che soggiornano su quel piano. È fantastico. La colazione inclusa rende il soggiorno ancora più comodo. Ci sono orari specifici per la colazione? Assolutamente. La colazione viene servita dalle 7 alle 10 tutte le mattine. Avrai tutto il tempo per gustare un delizioso pasto prima di iniziare la giornata. Questo è perfetto. Mi piace che ci sia un ampio orario per la colazione. C'è una varietà di opzioni disponibili per la colazione? Sicuramente. La colazione offre una varietà di opzioni per soddisfare le diverse preferenze. Troverai opzioni per la colazione continentale e calda. È bello sentirlo. È bello avere una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Sono disponibili anche scelte vegetariane o vegane? Assolutamente. Il menù della colazione include opzioni vegetariane e vegane. Puoi goderti un pasto soddisfacente indipendentemente dalle tue preferenze alimentari. Questo è eccellente. È bello sapere che ci sono opzioni per tutti. C'è anche una macchina per il caffè in camera? Sì, ogni camera è dotata di una macchina da caffè per la vostra comodità. Potrete gustare una tazza di caffè fresco direttamente nel comfort della vostra camera. Meraviglioso. Mi piace il caffè mattutino, quindi avere una macchina da caffè in camera è un'ottima funzionalità. C'è un centro fitness nell'hotel? Assolutamente. L'hotel dispone di un centro fitness ben attrezzato al piano terra. È possibile mantenere la routine di allenamento durante il soggiorno. È una notizia fantastica. Avere un centro fitness è un grande vantaggio per me. Mi piace rimanere attivo anche quando sono in viaggio. Ci sono anche strutture per la piscina? Sì, l'hotel dispone di una piscina sul tetto. È un ottimo posto per rilassarsi e distendersi dopo una lunga giornata. Non dimenticare di mettere in baligia il costume da bagno. Meraviglioso. Una piscina sul tetto sembra incredibile. Mi assicurerò sicuramente di mettere in baligia il mio costume da bagno e di approfittare di quella struttura. Grazie per tutte le informazioni. Lezione 19. Tecniche di asciugatura rapida. Ciao Anna, hai qualche consiglio su come possiamo asciugare i nostri vestiti più velocemente? Ehi! Sì, un modo per accelerare l'asciugatura è usare un'asciugatrice. È un'opzione comoda ed efficiente. Questo è vero. Ma cosa succede se non abbiamo un'asciugatrice? Ci sono altri metodi che possiamo usare? Assolutamente. Se non hai un'asciugatrice, puoi provare a usare un ventilatore o ad aprire le finestre per aumentare la circolazione dell'aria. Questo aiuta a velocizzare l'evaporazione. È un'ottima idea. L'uso di una ventola o la massimizzazione della circolazione dell'aria possono sicuramente aiutare ad asciugare i vestiti più velocemente. Ci sono altre tecniche che conosci? Sicuramente. Un'altra tecnica è quella di strizzare l'acqua in eccesso dai vestiti prima di appenderli ad asciugare. Ciò riduce il contenuto di umidità e accelera l'asciugatura. Questo è un consiglio utile. Strizzare i vestiti è un modo semplice ma efficace per accelerare il processo di asciugatura. Ci sono punti specifici in cui appendere i vestiti? Assolutamente. Appendere i vestiti in un'area ben ventilata, ad esempio vicino a una finestra o su un balcone, può aiutarli ad asciugarsi più velocemente. Anche la luce solare diretta può aiutare nel processo. Questo ha senso. La luce solare e l'aria fresca possono effettivamente accelerare l'essiccazione. È bene conoscere i punti ideali per appendere i vestiti. Qualche altro consiglio? Sicuramente. Se hai fretta, puoi usare un asciugacapelli a temperatura bassa o fredda per accelerare l'asciugatura di piccoli oggetti come calze o biancheria intima. È un'idea intelligente. L'uso di un asciugacapelli può essere particolarmente utile quando è necessario asciugare rapidamente capi specifici. Lo terrò a mente. Grazie. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che è importante seguire le istruzioni per la cura dei capi per garantire una corretta asciugatura senza danneggiare il tessuto. Assolutamente. Prendersi cura dei nostri vestiti durante l'asciugatura è fondamentale per mantenerne la qualità. Grazie per aver sottolineato questo punto. Lo apprezzo. Lezione 20. Scelta dei colori delle camice. Ciao Anna, sto comprando delle camice. Ci sono molte opzioni qui. Quale colore preferisci? Ehi! Quando si tratta di camice, di solito scelgo colori versatili come il bianco o il blu. Tendono ad abbinarsi bene a vari abiti. Che mi dici di te? Capisco il bianco e il blu sono scelte classiche. Personalmente, mi piace sperimentare con i colori. Sto considerando un rosso vivace o un verde intenso. Cosa ne pensi? Sembra interessante. I colori vivaci possono aggiungere un tocco in più al tuo guardaroba. Il rosso può fare una dichiarazione audace, mentre il verde può portare un tocco di natura. Dipende dal tuo stile personale e da cosa ti senti a tuo agio indossando. Hai ragione. Lo stile personale è importante. Voglio esprimere la mia individualità attraverso le mie scelte di abbigliamento. A proposito di stile, hai qualche consiglio su come abbinare i colori delle camicie ai pantaloni? Assolutamente. Quando si tratta di abbinare i colori della camicia ai pantaloni, è meglio creare un look equilibrato. Ad esempio, se scegli una camicia dai colori vivaci come il rosso, abbinala a pantaloni di colore neutro come il nero o il khaki. Questo crea una combinazione armoniosa. Questo è un ottimo consiglio. Bilanciare i colori audaci con i neutri a senso. Assicura che l'outfit non diventi opprimente. Lo terrò a mente nella scelta delle mie camicie e dei miei pantaloni. Meraviglioso. Trovare il giusto equilibrio è la chiave per creare outfit eleganti e coerenti. Si tratta solo di creare un piacevole effetto visivo. Sono d'accordo un piacevole effetto visivo può fare una grande differenza nel modo in cui un outfit viene percepito. Si tratta di creare un look armonioso e ordinato. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che la moda è una forma di espressione personale, quindi scegli colori che ti facciano sentire sicuro e riflettano la tua personalità. Assolutamente. La moda è un'espressione della nostra individualità. Sceglierò colori che mi risuonino e mi facciano sentire sicura di me. Grazie ancora per la tua guida. Grazie a tutti.